Procedono i cantieri estivi in città, sta procedendo a ritmo serrato il cantiere di Viale San Lazzaro per poterlo consegnare chiaramente prima dell'autunno, quindi prima dell'arrivo del traffico, una zona che verrà totalmente riqualificata sia l'asse viario ma anche i marciapiedi e con l'asse centrale che vedrà la piantumazione appunto di alberature e siepi. Procede anche il cantiere di Palazzo Chiaricati, una struttura fondamentale sia per l'attrazione turistica della nostra città ma anche e soprattutto per l'aspetto culturale e sta prendendo forma, anche stanno prendendo forma i lavori di adeguamento dello stadio Menti alla nuova categoria cadetta, criteri infrastrutturali che sono imposti dalla Lega di Serie B, stiamo dialogando con la società e contiamo di consegnare i lavori chiaramente durante l'estate per essere pronti appunto per la partenza. del campionato.